dove il 5 e il 6 ottobre questo 14esimo piano che contiene capolavori veramente importanti del patrimonio culturale della banca, i cittadini genovesi e non potranno benissimo venire a vedere e a guardare ma ammirare questo bellissimo patrimonio. E' con noi il dottor Massimo Primo direttore territoriale della banca BIPER genovese. Grazie, approfitto per raccontarvi questo evento è cultura, è un evento promosso da Abbi e da Acri su tutto il territorio nazionale che vedrà impegnata la banca certamente a Genova quindi a cassa di risparmio 15 al 14esimo piano ma dal 5 al 12 ottobre anche in altre città, Modena, Torino, Matera. Quindi ammirerete questa collezione permanente intitolata nelle stanze dell'arte itinerario tra i capolavori di una quadria genovese che espone grandissimi capolavori, Veronese, Guercino, il Cavaliere Zarpino che ricordo fu anche il maestro di Caravaggio, Strozi, Van Vick. In questa occasione potrete altresì ammirare la collezione di monete antiche messa a disposizione per tutti i cittadini che vorranno partecipare. Sono monete preziosissime, una in particolare tra le tante e lo scudo della galera coniata da Andrea Dora Primo nel 1600 che sul retro riporta l'effigie di un'imbarcazione a memoria delle grandissimi gesta navali della propria famiglia. Quindi vi aspettiamo tutti il 5 e il 6 ottobre. Ricordo che l'ingresso è gratuito dalle 10 alle 19. È necessaria una prenotazione che si può fare sul sito la galleria.